Benvenuti in Karl F. Bucherer. Karl F. Bucherer è un'azienda familiare di lunga data, fondata nel cantone svizzero di Lucerna nel 1888 da Karl Friedrich Bucherer. Tutto è iniziato con un piccolo negozio specializzato in orologi e gioielli, il cui nome oggi è sinonimo di orologi di lusso di eccezionale qualità ed esclusività. Nel 1888, Karl Friedrich Bucherer ha aperto una boutique di orologi e gioielli a Lucerna, in Svizzera. Inizialmente, Bucherer produceva gli allora tipici orologi da tasca e nel 1919 presentò la prima collezione di orologi da polso da donna in stile Art Deco. Fu uno dei primi orologiai ad adottare il cinturino per orologi, che all'epoca era ancora un concetto rivoluzionario. Gli orologi Karl F. Bucherer sono noti per la loro precisione e affidabilità. Tra i movimenti automatici più famosi, non possiamo dimenticare il calibro CFB T3000, un movimento composto da 189 pezzi che lo rendono tra i più affidabili e precisi del mercato. In sintesi, gli orologi Karl F. Bucherer rappresentano il meglio dell'alta orologeria svizzera, grazie alla loro storia, alla loro qualità e alla loro precisione. Il sorprendente connubio tra le abilità del gioielliere e l'esperienza dell'orologiaio è ciò che ha reso le creazioni di Karl F. Bucherer uniche fin dall'inizio.